salve a tutti allora voglio fare questo video per parlare della liberazione visto che il 25 d'aprile è stato la commemorazione l'anniversario della festa della liberazione per noi italiani voglio con questo video voglio ricordare quando quando c'è stata proprio la liberazione dalle guerre mondiali che abbiamo avuto qui in italia ai tempi dei nostri nonni diciamo e voglio dire una cosa deve rimanere nelle nostre menti queste cose e soprattutto non ci devono essere più guerre ecco non ci devono essere più guerre né in ucraina né in palestina perché le guerre portano solo sconforto amarezza e morte ecco ci deve essere più la pace nel mondo meno crisi economiche meno crisi di lavoro dappertutto oltre che qui in italia perché nel mondo ci sono anche tanti italiani nel mondo quindi avranno festeggiato questi italiani anche nei paesi dove abitano dove risiedono per lavoro oppure perché si sono creati una famiglia all'estero oltre ad avere un lavoro all'estero però voglio dire una cosa gli italiani che ancora stanno qui in italia non andate all'estero a trovare il lavoro sempre cercate di sviluppare qualcosa di nuovo di originale qui in italia per le cose che avete studiato ma anche se non anche se non potete trovare lavoro per le cose che avete studiato provate a crearvelo uno vuoi anche con la realtà artificiale con il canale youtube con youtube combattiamo sta crisi che ci ha un limite ecco combattiamo cerchiamo di inventare qualcosa di originale di nuovo ecco come sto cercando di fare io adesso ho scoperto questi podcast che non sapevo che cos'erano non sapevo come funzionavano e l'altra sera mentre stavo guardando un film ho capito che cos'erano e ho iniziato ad avere anche questa libertà di fare podcast questa è la libertà per me cercai di creare contenuti qualsiasi contenuto liberamente e cercai di far conoscermi di farmi conoscere dalle persone la libertà è questa la libertà è anche se non si trova un lavoro fuori casa di crearselo il lavoro perché a volte anche meglio fare un lavoro online a meno per chi ha qualche disabilità oppure anche per chi magari è stufo di essere comandato sempre di essere limitato nel lavoro con gli orari con con la benzina che costa tanto e quindi spostarsi costa come spostarsi anche in aereo come spostarsi in nave come spostarsi in macchina come spostarsi in treno come spostarsi in pulma è costoso è costoso e poi sono cose che inquinano l'ambiente una volta c'erano i cavalli vabbè ci si metteva un bel po' ad arrivare ai luoghi dove bisognava arrivare però era meno inquinato perché i cavalli che cosa vogliono inquinare? niente anzi e c'era più libertà nei spostamenti perché non credo che pagavi tanto per usare la carrozza col cavallo ecco 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 a meno credo eh questa è la libertà la libertà è cercare di fare anche i lavori online ma senza pensare al trading a minare bitcoin oppure a farsi truffare perché perché farsi truffare poi vi limita se vi fate truffare vi limita economicamente dopo perdete dei soldi con queste cose col trading e minare bitcoin e quindi non siete più liberi economicamente e dovete riprodurre questi soldi che avevate prima perché non potete io leggo tante cose su un forum online che ci sono tante persone che chiedono ma come possiamo riavere indietro i soldi che siamo stati truffati gente l'unica cosa e non pensarci più a quei soldi ormai sono andati persi anche se se denunciate con la burocrazia che c'è qui in Italia non è non credo che otterrete nulla secondo me ecco perché è meglio fare i lavori online senza investimento di soldi perché danno più libertà più libertà danno perché sono senza rischi di perdere soldi vabbè puoi perderci un po' del tempo puoi perderci con qualche lavoro online perché certi possono non pagare certi possono pagarti però bisogna testarli visto che sono gratuiti bisogna testarli e anche questa libertà di testarli di provarli e fare una recensione ai sviluppatori delle app questa è la libertà questa è la libertà così meno si mette in guardia altre persone dicendo guardi che questa app non paga oppure che questa app paga la provi cioè questa è la libertà ecco la libertà che i soldi guadagnati senza investirli possono essere utili per tante cose per curarsi è importante curarsi perché se non ci si cura non si sta in vita ecco a lungo ecco quindi è importante come è importante cibarsi come è importante bere come è importante vestirsi ecco eccetera eccetera comprare medicinali quindi dare amore anche ai pedosetti anche loro hanno bisogno di affetto ma non solo di affetto e di amore ma anche di essere anche loro liberi di di donarti qualcosa in cambio e per fatti donare qualcosa in cambio devi curare pure a loro se stanno male devi dargli affetto quando non stanno bene a proposito eh questo è il concetto di libertà il concetto di libertà anche di parlare di non essere limitati ecco di non essere chiusi dentro ma esternare quello che c'è da esternare perché così si conoscono le persone raccontandosi esternando le cose le passioni le cose in comune insomma ecco e non solo i pensieri le proprie idee ciao a tutti